Furti in abitazioni, nei ristoranti, nei negozi. Un fenomeno in continua crescita che allarma e preoccupa. Colpi a raffica di bande senza scrupoli. Non importa se i proprietari siano all'interno o meno. I ladri fanno irruzione. Questo periodo poi, che si avvicina sempre più alle festività natalizie, di certo non aiuta. L'attenzione da parte dei carabinieri è massima. H24, le pattuglie dell'arma girano nel territorio. La notte scorsa è stata difficile sul fronte dei furti. Ci sono stati svariati episodi, però è il periodo che veramente richiede la nostra massima attenzione, perché anche così negli anni scorsi questi periodi appunto che sono immediatamente successivi al cambio dell'ora e quindi a un accorciamento delle giornate, al fatto che per forza di cose insomma i cittadini debbano magari assentarsi da casa anche quando ormai è buio e quindi l'oscurità e quindi diciamo così che sicuramente facilita le azioni di questi malviventi. Ripeto, l'impegno dell'arma e delle altre forze dell'ordine è sicuramente massimo. È fondamentale, spiega il tenente colonnello Turrini, la collaborazione dei cittadini. Ciò che mi sento di dire oggi è veramente quello di fare un appello a tutti i nostri trevigiani, a tutti i residenti nella provincia per segnalare veramente ogni dato, ogni informazione di cui appunto vengano in possesso. L'autovettura sospetta, l'aggirarsi di soggetti che usualmente non si vedono nel nostro quartiere, un numero di targa. Sono informazioni utilissime, ogni informazione viene analizzata, poi sta a noi appunto verificarla, però ecco di farlo senza timore. Una segnalazione fatta in maniera tempestiva potrebbe permettere di bloccare un furto in abitazione o in un locale. Intanto nelle ultime ore molte segnalazioni di irruzioni un po' ovunque nella marca. Conegliano, Volpago, Roncade, Preganziol, Mogliano. I comuni hanno potenziato i sistemi di videosorveglianza, ma questo non sempre sembra scoraggiare i malviventi.